Nella seduta odierna della Commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica abbiamo audito i vertici di H. La Presidente Brandelli ci ha esposto quelli che sono i soliti problemi purtroppo per le società di gestione, cioè un aumento esponenziale del costo dell'energia elettrica e delle difficoltà di coordinamento tra le varie società di gestione, ad esempio per l'abbattimento dei costi. Quello che lamenta la Presidente Brandelli è che non si sia proceduto ancora alla realizzazione di una centrale unica di committenza, una centrale unica di acquisto che permetta di abbattere i costi e quindi di abbattere anche i costi poi in tariffa per le utenze. Un focus speciale lo abbiamo fatto con la Presidente dell'ACA sulla città di Chieti, città di Chieti che abbiamo detto molto spesso essere stata additata come maglia nera d'Italia per le dispersioni idriche con punte fino al 70% dall'ultimo report Istat, bene la Presidente Brandelli ci ha spiegato come è composto questo 70% e cioè un 50% è vero sì da dispersioni, quindi da perdite proprio di acqua lungo le reti e lungo le linee ma una grossa dispersione data all'interno di quello che si chiama il bilancio idrico da utenze non censite. È una notizia francamente sconvolgente, il Comune di Chieti avrebbe a detta della Presidente Brandelli 134 utenze abusive pubbliche non censite, dunque non fatturate, dunque non pagate ad ACA, per cui ACA subisce anche una grossa perdita economica da questo. Quello che ci ha detto anche la Presidente Brandelli è che ACA avrebbe sollecitato il Comune di Chieti a fornire una risposta, a dare disponibilità per andare materialmente ad installare i contatori su queste utenze ma nessuna risposta è pervenuta dal Comune di Chieti. Come commissione ci faremo carico anche di questo di fare chiarezza sulla questione delle 134 utenze abusive e anche di risolvere questo problema per ACA che si riverbera evidentemente anche sui cittadini.